LIC! Ben ritrovati i miei cari vintori dell'Ugiona Barchaccio. Quest'oggi voglio parlare con voi di una tematica che da tempo volevo affrontare e mi è stata acquita da due fattori. Il primo, quando la scorsa settimana, ascoltando su BFC Week, ho sentito parlare di Vaio e Bigon, soprattutto il di Vaio, riguardo appunto che quando si selezionano i giocatori, si selezionano non solo per certe determinate qualità tecniche, ma anche per qualità di leadership, cioè carismatiche, va bene. E poi perché leggo qui su Tutto Bologna Web un articolo, fonte, corriere, ok, di Bologna, dove si cercano nuovi leader per il Bologna Football Club, posto che da Costa, Palacio e Danilo hanno lasciato il Bologna e che della vecchissima guardia è rimasto solamente in Baie, poi c'è il Poli, che sappiamo oggi essere il nostro capitano e poi un vuoto assoluto. Al che ci si chiede? Visto e considerato che Poli non è titolare, è giusto continuare ad assegnare la fascia del capitano e sembra che il prossimo anno la fascia del capitano possa passare sul braccio di Roberto Soriano. Adesso voglio sviluppare con voi tale tematica, quindi abbracchiamendomi cari inventori, prima di iniziare come sempre le buone maniere, tasto rosso, clic, iscriviti al canale dell'Ugiona Barcalcio, condividi questo sommoluogo nonché erudito con tutti i tuoi amici di Fede Rosso Blu che conosci e non solo e lascia subito un mi piacino adesso, supersonicamente mi piacino ai video dell'Ugiona Barcalcio. Perché voglio parlare di questo aspetto? Perché lo reputo fondamentale, perché ritengo che una qualsiasi squadra che voglia puntare a un qualsiasi obiettivo, ok, debba avere sì valori tecnici in rosa ma debba avere altrettanti valori morali. Io adesso vi chiedo, fatelo in silenzio, ok, così che il video possa continuare, ma dite a voce alta secondo voi chi tra i titolari oggi al Bologna, esclusivamente il Palacio e il Danilo che se ne sono andati, chi ha tali dotti carismatiche? Perché solamente con il carisma, cioè con la leadership, si possono anche fare fronte a quei momenti difficili nell'arco della stagione. Guarda caso, quando abbiamo ottenuto quello che dovevamo ottenere e comunque quando bisognava alzare il tiro per magari inanellare una serie di vittorie, magari due, tre, non ce l'abbiamo mai fatta, chiediamoci il perché. E tante volte a sentire Mia Elvici a parlare di sfortuna, di infortuni, ma bisogna anche porre l'accento su un aspetto su cui secondo me si pone troppo poco. Diciamolo, non è criticare, dire che il Bologna Football Club ha un'altra pecca, oltre a quella di una rosa, secondo me, manchevoli sotto molti punti di vista, che è quella di selezionare e prendere i giocatori che hanno una scarsa leadership, non bassa, proprio scarsa. Secondo me manchiamo proprio da un punto di vista carismatico a livelli incredibili. Ma questo non solamente in rosa nei giocatori, purtroppo io devo sottolineare, perché io poi quando sento dire di Vaio, che una delle doti che loro valutano prima di tesserare un giocatore è proprio quella del come si comporta in campo, come si comporta eventualmente verso l'allenatore o verso i compagni, e quindi tutte quelle doti che esono un attimo dalle qualità tecniche, allora mi viene da pensare che i nostri uomini selezionino mani, oppure abbiano un attimo le idee un po' confuse di che cosa si intenda per leadership e carisma in un calciatore di calcio. Perché poi sento delle volte i nostri stessi dirigenti, tali Sabatini, Bigol, dire, eh ma il palazzo non lo si può svegliere, eh ma il Medel deve decidere lui se andarsene o meno, eh ma qui, eh ma là. E poi il bello è, niente dipende mai da noi, tutto dipende dal caso sembra, non dipende da noi, è una frase che quante volte abbiamo sentito dire. Questo è un grave problema. Perché dico questo? Perché oltre secondo me a palesare una manchevolezza da parte degli uomini che sono in campo, ok? Cioè non abbiamo degli uomini guida, degli uomini che trascinino gli altri, perché anche Soriano, diciamolo, è più un gregario, più che uno con qualità da leader, almeno questo è il mio punto di vista, sarebbe un po' sforzato dargli la fascia da capitano, anche se vi ha detto che obiettivamente non saprei altrimenti chi darla. A chi la vogliamo dare? A Dorsolini? La vogliamo dare a Musabarro? Non lo so. A Priticello che magari adesso sta già piangendo e sta nevicando alle soglie dell'estate. Quindi bisogna anche fare questo tipo di considerazioni e sottolineare come anche lo stesso Mijajlovic comunque che che se ne dica, ok? Adesso ha riabbracciato e facciamo tutti un attimo orecchie da mercanti, perché ha riabbracciato un attimo il Bologna per quest'ultima probabilmente stagione su cui resterà in sella a tale cavallo, ok? Rosso-blu, però sappiamo tutti che non ne aveva più di tanta di rimanere qua, anche questo è un qualcosa che comunque ai ragazzi tu fai trasparire e gli trasmetti. Quindi se ci mettiamo tutto questo, ci mettiamo i nostri dirigenti che dicono delle cose che fanno capire che anche loro a livello di palle ce ne hanno poche. Allora io dico, uno dei problemi di questo Bologna secondo me è che ci mancano i coglioni, ci vogliono dei coglioni da toro, sia per trovare i giocatori giusti perché bisogna avere delle qualità, bisogna avere delle qualità quasi da, diciamo, da visionario del calcio per riuscire a prendere i giocatori con le qualità giuste e a questo punto mi viene da pensare che sicuramente il Bigon e il Divaio facciano fatica. Sabatini ha dimostrato di comunque anche lui allinearsi a quelle che sono le linee guida che ha trovato qui a Bologna e altrettanto sembra fare fatica, ok? Forse anche più degli altri. Quindi a me viene da palesare una grave mancanza di leadership a 360 gradi, a cominciare dai dirigenti, non parliamo ovviamente del nostro patrone, a cui bisogna dire sempre grazie, ok? Grazie di esistere, gioia e grazie saputo. Non lo nominiamo perché ansa mai qua se no. A continuare con i nostri dirigenti, intendo Fenucci, Bigon, Sabatini, Divaio, sono tutti, continuando con Mielovic e la squadra stessa che secondo me è molto manchevole. Prendiamo il caso di Poli, perché qui vi devo dire una cosa. Poli si legge oggi sopra tutto Bologna web che sarebbe stato messo un attimo fuori dai piani di Sinisci. Uno dirà, caspita, che sorpresa, l'anno scorso ha giocato 373 minuti cumulati, il che equivale a dire ha giocato praticamente quattro partite, quattro partite di calcio in una stagione. E uno mi dice che sorpresa è che sia fuori dal gruppo e dai, diciamo, dalle scelte eventuali di Sinisci e Mielovic. Il problema sussiste quando, vai a vedere quanto percepiscono tali giocatori, nella fattispecie Poli prende un milione virgola centomila euro, che poi netti a bilancio sono due milioni e duecentomila euro. Il problema sussiste quando dobbiamo foraggiare, ok, dei giocatori per stare in panchina. E il problema sussiste quando questi calciatori dovrebbero essere i leader, perché stiamo parlando del capitano Poli, che si prende un milione centomila euro senza praticamente giocare a calcio e ci viene a dire, perché la notizia di oggi, che l'ha rilasciata la gazzetta stamattina, non vi preoccupate Bologna, io rimango. Quindi non so se non ci dobbiamo preoccupare. Io personalmente mi preoccupo. Perché mi preoccupo? Perché a fronte appunto di proprio quello che dovrebbe essere l'uomo che dovrebbe avere tra i giocatori più leadership dice, rimango perché voglio onorare il mio contratto fino alla scadenza, cioè a giugno 2022, a me viene un attimo da sobbalzare. Perché te Poli non è che stai onorando il contratto per la maglia, te stai onorando il contratto per una tua questione personale. Perché hai capito che è meglio stare in panchina, ok, a svernare tutta la stagione e percepire un milione e cento mila euro netti, piuttosto che magari andare altrove, giocare e pigliarne la metà. Quindi è una scelta di comodo che fa capire che uomini abbiamo qui a Bologna. Un capitano serio voleva rimanere bene. Dice, guardi, mi rendo conto che nell'ultima stagione non sono stato più di tanto nelle mine dell'allenatore. Mi rendo conto che l'allenatore ha chiesto eventualmente anche la mia cessione perché non sono fra le sue prime scelte. Sono il capitano o a cuore la maglia? Allora sapete cosa vi dico? Mi dimezzo lo stipendio. Quanto meno nell'ultimo anno sarebbe stato una cosa questa. Sì, da leader. Altrimenti se te mi dici non vi preoccupate, rimango. No, io mi preoccupo. Io se mi permetti mi preoccupo. E quindi mi sembra anche giusto stare come qui, appunto, dicevi il Corriere, ripensare un attimo a chi affidare la fascia da capitano il prossimo anno è che a noi il capitano ci serve in campo. Non ci serve fuori dal campo. Quindi abbiamo un sacco di giocatori che sono in rosa personalmente per una questione di stipendio. Voi dovete venirmi a dire se questi sono leader. Se questo è leadership. A noi manca proprio la leadership. Ci può compare dal salumiere la leadership? duet di mortazza, uno di crudo e mezzetto di leadership. Ah, quella non c'è. Arriva venerdì. Devo passare venerdì. Devo passare venerdì. Forse trovo mezzetto di leadership. Quindi attenzione perché poi anche i giocatori che adesso stiamo andando a valutare e per tesserare. Vedi Arnautovic. Arnautovic non è da confondere come personaggio carismatico perché Arnautovic è più che altro uno sbruffone. A differenza di Ibraimovic che sicuramente è, oltre che uno sbruffone, anche un personaggio con della leadership perché l'ha dimostrato la sua carriera perché è un vincente. Arnautovic non ha mai vinto niente. Quindi per assurdo avrebbe più leadership un Benatia che verrebbe, ok, a portare un po' di carisma da un punto di vista di Palmares perché Benatia ha vinto, ha vinto, ha vinto e quindi sicuramente sarebbe quello con un po' più di carisma, ok, e che si può respirare in squadra e viceversa. Attenzione a confondere perché a me viene il dubbio che nella nostra dirigenza si faccia un po' di confusione. Abbiamo bisogno di una dirigenza con le palle. Quando io dico dirigenza con le palle vuol dire che si deve mettere alla porta quando un calciatore o anche uno dello staff non serve più al Bologna perché ci dobbiamo rendere conto di una cosa, che qua in società si deve fare il bene della maglia, ok, non degli uomini, ok, primariamente della maglia va bene. Quindi quando io sento dire sviliamo non si può, dobbiamo aspettare, faccia quello che vuole, ma non va bene, non è così che si gestisce una società di calcio. Perlomeno vorrei che non fosse come si gestisce la mia società di calcio. Se abbiamo dei, veramente se abbiamo che facciamo la Caritas, ragazzi, io non so, guardo anche BFC Week, per carità adesso mi prenderete magari a badilate e a fucilate, delle volte mi sembra di assistere a dei video da centro sociale. Ma ragazzi, ma stiamo giocando al gioco del calcio, stiamo giocando al gioco del calcio, non è che stiamo a andare a fare beneficenza e ci dobbiamo distinguere per la beneficenza che portiamo perché andiamo a portare un salame dentro un sacchetto con la rosso-blu del BFC. Ma io di questo me ne sbatto le palle, perdonatemi, io vorrei vedere a livello manageriale di calcio dei risultati, poi magari se si accompagnano da queste cose qui, bene, altrimenti non confondiamo le due cose. Noi siamo una società di calcio e dovremmo avere dei dirigenti con i coglioni da toro, ok? Cosa che, secondo me, ma questa è la mia personale opinione, non abbiamo. Fatemi sapere quindi, miei cari vintori, cosa ne pensate riguardo a chi affidereste la fascia da capitano il prossimo anno e se siete d'accordo in quanto sostengo che Poli, secondo me, ci ha fatto una figura, certamente, non brillantissima e che è giusto, secondo me, cambiare il prossimo anno e il capitano, fatemi sapere chi assegnereste la fascia. Attivate il campionaggio pastorale per rimanere sempre aggiornati qui all'Ugione Barcaccio di nuovi video e noi ci sentiamo alle prossime chiacchiere da bar!